Non ci sono limiti per un aspirante influencer! Niente è più importante dei like! Ho un pulsante d'oro! Il mio sogno si è avverato! Oh, una macchia! La pulisco! È bellissimo! Il mio tesoro! Tutti devono vederti! Sì, ragazzi! Questo è un vero pulsante d'oro! Ho un pulsante d'oro! E lo appenderò al muro! È quasi reale! Ti merito! Perfetto! Buongiorno! Un po' di magia TikTok e vedrete... Un'incredibile trasformazione! Vediamo com'è avvenuto! Oh sì! Grande clip! Perfetta! Ciao a tutti! Sto per fare un video di tendenza! Uno, due... Vai! Una famosa influencer distribuisce autografi! Ragazzi, è lei! La mia influencer preferita! Un autografo, per favore! Sei il nostro idolo! Un'aspirante influencer regala volantini! Ecco, prendi! Venite nel nostro negozio di caramelle! Sostenete il biscotto locale! Oh, che testa pesante! Wow, la mia influencer preferita! Ciao, sono una tua fan! Davvero? Oh, il tuo costume è esilarante! Aspetta, faccio una foto per Insta! Avrà un sacco di mi piace! Non c'è niente di divertente! Oh, la mia storia sarà deliziosa! I veri influencer hanno attrezzature professionali! Adoro questo stand! È così maneggevole! E i video sono fantastici! Ciao, sono di nuovo io! La tua influencer preferita? Gli aspiranti lavorano con ciò che hanno! Girerò un nuovo filmato! È così scomodo! Metto il telefono qui! Non va! Resta qui! Ma cosa faccio? Mi inventerò qualcosa! Ecco, ranocchio! Tieni il telefono! No, non funziona! Oh, ma ho un'idea! Qualche cuscino, un orsacchiotto, una sveglia... Dovrebbe funzionare! E invece no! Brutta idea! Ragazzi, oggi proveremo una nuova videocamera GoPro! La indosso e... Via! Andiamo! Wow, è fantastico! Così veloce! I miei fan possono vedere tutto! È così divertente! Ragazzi, ecco come si divertono gli influencer al lavoro! La telecamera sulla mia testa vede tutto! Ciao a tutti, sono di nuovo io e oggi girerò un programma di cucina! Ecco la mia ricetta di dessert preferita! C'è puzza di bruciato! Il mio dolce va a fuoco! Oh no! È rovinato! È rovinato! Vediamo! Non sembra così male! E quando lo filmo non si vedrà che si è bruciato! Ragazzi, ho fatto questo delizioso muffin! Iniziamo il corso di cucina! Mi servono mattarello, acqua, uova e farina! Cominciamo! Per prima cosa devo setacciare la farina! Ecco fatto! Basta fare un buco e aggiungere un uovo! Fantastico! Poi versare l'acqua! Ups! È uscita! Ma dovrebbe essere così! Ora miscolare e stendere la pasta con il mattarello! Proprio così! Ciao a tutti! Ups! Il segreto del mio fantastico corpo è che mangio sano ogni giorno! Una mela al giorno toglie il medico ritorno! Ciao! Ah, che palle e cibo sano! Sì, vorrei ordinare una pizza! E con doppio formaggio! Uh, già qui! Buon pomeriggio! Uh, sei tu la famosa influencer! Sì, lo so, lo so! Ecco un autografo! Prego! Ciao, sto aspettando una pizza! Aspetta! Oh, fan! Aspetta! Quella era la mia pizza! Ecco il tuo ordine! Grazie! Oh, cavolo! Ho sognato di nuovo il cibo! Ora ho davvero fame! Vediamo cos'è rimasto in frigo! Un po' di lattuga! Che schifo! Beh, non c'è nulla! Ordinerò una pizza! Pronto? Vorrei una pizza grande! Ecco la mia pizza! Sbrigati! Consegna a domicilio! Deliziosa! Wow, incredibile! È il mio idolo! Una famosa influencer! Qui, sulla scatola! Non hai ancora pagato! Non posso pensare ai soldi in un momento così! Ti metto qui, nel mio posto migliore! Guarda questa foto! È incredibile! Stiamo benissimo insieme! Oh sì! E questa? Mi ha chiesto di fare una foto insieme! Incredibile! E Justin è davvero carino! Lo adoro! Wow, che collezione di celebrità! Ho bisogno di una foto con una celebrità! Scelgo te! Photoshop non deludermi! Ecco! Perfetta! Sembra vera! Inviata! Oh sì, un ottimo lavoro! Ora devo solo aspettare i like! Il mio nuovo post è finito! Pubblicato! Ecco qua! Vediamo cosa c'è sul mio canale! Cosa? Un milione di iscritti! Wow! Evviva! È ora di mangiare la torta! Oh sì! Ragazzi! Questo è un successo! Ho un milione di iscritti! Wow! Vediamo quanti followerò! Evviva! Finalmente! Sono dieci! Ora posso festeggiare e mangiare un po' di torta! Oh! Sono di nuovo nove! Qualcuno si è disiscritto! Torta, devo metterti via! Anch'io sono triste! Ragazzi, oggi sul mio canale toglieremo dalla scatola la nuova linea make-up! Vediamo cosa abbiamo qui! Tre pennelli per il trucco! Molto utili! L'ombretto! Lo applico subito sulla palpebra! Sembra fantastico! Metti un like e iscriviti! Ciao ciao a tutti! Uh, che borsa pesante! Ma l'ho trascinata dal negozio per una buona ragione! Girerò un video! Ciao a tutti! Sistemiamo la spesa! In questa borsa ho del fantastico pane francese! È fresco e ha un buon profumo! È fresco e ha un buon profumo! Poi del latte! Il mio preferito! E un sacchetto di pasta! È integrale! E succo di agrumi! E naturalmente un po' di lattuga fresca e Wurstel! Ups! Niente Wurstel! Solo lattuga per restare sana e magra! Bye bye! Basta sistemare la spesa! Ora si mangia! Finalmente Wurstel! Che senso ha andare in vacanza se non si pubblica una foto con una tavola da surf? Oh sì! Questo è il paradiso! Posizione E! Il posto più felice della Terra! Mettiamo su una playlist per stirare! Oh! Una notifica! Vediamo! Ah! Ha postato una foto con una tavola da surf! Ne voglio una anch'io! Ho una bella tavola! E non importa se è da stiro! Tavola! Stai ferma se vuoi dei like! Ciao a tutti! Solo per oggi una festa fantastica e siete tutti invitati! Wow! Sono già qui! Ciao! Ti vogliamo bene! Wow! Buonasera! È questa la tua festa? Devo farti qualche domanda! Ragazzi! La polizia è qui! Cosa facciamo adesso? Tesoro! Tienimi il cappello! Il divertimento è appena iniziato! Woohoo! È così che ci si diverte! Salve follower! Vi invito tutti alla mia festa! Ci saranno musica, spuntini, cappellini e tanto divertimento! Ecco i primi ospiti! Vediamo chi ha tanta fretta! Ups! Salve agente! Sai che ore sono? I tuoi vicini si lamentano della tua musica! Ne parleremo alla stazione! È ora di pubblicare un selfie con la mia nuova auto! Oh sì! Fantastico! Ora cambio angolazioni! Non male! Penso che sia abbastanza! È ora di andare! Dimenticavo gli specchietti laterali! Sono in formissima! Luce perfetta! Ancora qualche foto! Oh cavolo! Sono in ritardo! Wow! Guarda questa macchina! È come quella della mia influencer preferita! Farò un selfie! Oh sì! Fantastico! Signorina, ha finito? Posso andare ora? Oh oh! Perché non posso caricare il video? Il portatile non funziona! Oh! Sta fumando! È rotto! Ok, ne ho un altro! Ora va meglio! Tutto pronto per l'upload! Dai! Dai! Più veloce! Perché ci vuole così tanto? Un'eternità! Sta ancora caricando! Finito? Ci siamo quasi! Il 99% è andato! Forza! Un ultimo sforzo! Cosa? Si è spento! Non può essere vero! La batteria è morta! Ti accendo e... Oh no! L'upload è ricominciato! Ti sono piaciuti i nostri influencer? Scrivi qui sotto se sei già un influencer famoso o hai appena iniziato la tua carriera! E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere i nuovi spassosi video di Troom Troom! Scriviti al canale!